Uscita dal principio che ci ha schiacciato fino ad oggi di esclusivo atlantismo e puntare davvero a un dialogo comune verso tutti i paesi del globo. Noi siamo un piccolo paese in mezzo a dei colossi e allora è il nostro interesse strategico poter parlare con tutti questi attori e migliorare la condizione sociale del nostro paese.